E' considerato il più grande pittore di Spagna Un'opera veramente meravigliosa Un'artista rinomato per il suo genio Una donna adorata per la sua bellezza Perché quel dipinto non ha la faccia? Perché è un fantasma No, non è vero E come lo sai? Ma dietro l'arte Voi pittori non diventate molto intimi con le vostre modelle? Oltre i dipinti Mia figlia Ines è stata convocata dal santo ufficio Ines, ma è inaudito C'è un mondo dove i potenti vengono dichiarati virtuosi Dobbiamo tornare al sacro timor di Dio, come in passato E gli innocenti dichiarati colpevoli Ditemi qual è la verità La verità Ci sono rivoluzioni ovunque Nel nome dell'imperatore Napoleone Dichiariamo l'inquisizione spagnola abolita Perché è tanto importante per te? Sei completamente ossessionato da lei Quella faccia è impressa nella mia mente Io non l'abbandonerò mai! Grazie a tutti! Grazie a tutti!